Noi cerchiamo di lavorare per mantenere la magia, la bellezza di un oggetto che nasce nel rispetto della natura e delle sue espressioni. Avevamo fatto tanti tentativi per mettere insieme questo snodo, alla fine quello più semplice è prendere un pezzo di legno molto legato perché gli sforzi possono essere notevoli e quindi è meglio lavorare sulle parti delle radici, del tronco basso, dove è più fitto il legame tra fibra e fibra. Un tentativo per far godere gli alberi quando li seguiamo, diciamo guarda stai tranquillo che ti mettiamo in un posto dove sarai onorato.